Sorride a Diego Martelli, al nostro tecnico Torrente, perché Diego Martelli diceva che questa volta gliel'aveva tirata a Clemenza, ma credo che sia forse la sera che è il più arrabbiato Torrente. Peccato, perché la squadra ha disputato un'ottima gara, siamo stati bravi a gestire il doppio vantaggio. Dopo 30 secondi abbiamo preso un gran gol di Pompetti, è peccato perché se veniva il primo tempo sul 2-0, magari le cose potevano cambiare. Non mi è sfuggito una cosa Torrente, proprio dopo che ha segnato Pompetti, io l'ho guardata, lei si è arrabbiato tantissimo, ha capito che quello era il momento chiaro. Sì, anche perché questo è il nostro problema del nostro percorso in campionato, che purtroppo abbiamo avuto dei cali di tensione e abbiamo sempre pagato. Oggi ancora di più, poi quando incontri squadre come il Pescara che ha dei valori importanti, come commette un errore, poi la qualità dei singoli del Pescara ha fatto la differenza. Soprattutto quando nel secondo tempo Condursi, soprattutto Pontisso, si è alzato, lì avete sofferto un po'. Sì, loro hanno preso fiducia, poi hanno alzato un po' di più il baricentro, noi abbiamo sofferto, però abbiamo fatto la nostra partita, le occasioni le abbiamo avute. Peccato perché, ripeto, la partita si è decisa sul 2-1 e quando incontri queste squadre che hanno qualità come il Pescara e esperienza, poi le paghi. Chiedo un'ultima cosa, le chiedo Torrente, perché il tecnico Zauri è stato molto onesto qui in postazione, ha detto sinceramente non me la sento di dire nulla al Gubbio sul gol quando si è fatto male Drudi perché il giocatore era di spalle e non l'ha visto, grande fair play. Sì, sì, è successo questo, quindi lo ringrazio. Invece cosa è successo nel finale che avete preso un cartellino rosso a partita finita? Ma non lo so cosa è successo, solo che credo che D'Amico sia stato espulso, però non so se ha detto qualcosa all'albitro, ha commesso comunque un errore, la partita ormai era finita, non serve. Chiedo l'ultima cosa e poi la salutiamo, ringraziamo l'ufficio stampa del Gubbio, il nome di Torrente è un nome che è molto gettonato a Pescara per la panchina, ne sa qualcosa? Mi fa piacere, io in passato sono stato vicino al Pescara nel 2013, c'è un incontro con Repetto, allora direttore sportivo, poi le cose fecero un'altra scelta, se non sbaglio con Mariano. In questi giorni? Mi fa piacere perché ritengo Pescara una grande piazza dove hanno visto calcio importante, quindi mi fa piacere.